Ciao a tutte carissime amiche e grazie di essere qui sul nostro canale. Le anticipazioni delle puntate della promessa della settimana dal 17 al 21 giugno ci parleranno del ritrovamento e salvezza del bimbo di Pia e delle tensioni crescenti tra Alonso e Fernando. Ma prima di vedere cosa succede, vi invitiamo ad iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdere nulla di questa appassionante sagra. Grazie. E ora cominciamo. Lunedì 17 giugno. Mercedes giunge alla promessa e riesce a convincere Jimena a rinunciare al suo viaggio programmato per Madrid-Jimena, è visibilmente preoccupata. Non desidera restare perché non può più continuare a mentire sulla sua gravidanza. Mercedes, cercando di rassicurarla, le propone un piano elaborato per fingere un aborto, sperando così di risolvere il problema senza destare sospetti. Nel frattempo, Teresa e Feliciano sembrano sempre più vicini. La loro complicità cresce giorno dopo giorno. Parallelamente, Jimena si confida con Manuel, confessandogli che i suoi sbalzi d'umore sono causati dalla gravidanza. Lei gli chiede di restarle accanto durante questo periodo difficile. E Manuel, con dolcezza, promette che lo farà, cercando di offrirle tutto il supporto possibile. In un'altra parte della tenuta, Fernando e Alonso si scontrano in un acceso dibattito riguardo alla questione dell'eredità familiare. Catalina, ascoltando di nascosto la loro discussione, si rende conto che la frattura tra i due è ormai insanabile e che ogni tentativo di mediazione sarebbe vano. La tensione tra i fratelli è palpabile, e Catalina capisce che deve rassegnarsi all'inevitabile distanza tra di loro. Intanto, Giana si introduce furtivamente nel convento di Villalquino. Con movimenti rapidi e silenziosi, riesce a trovare il bambino, mentre Manuel, con astuzia, distrae la madre superiora. Giana, con il cuore in gola, prende il bambino tra le braccia ed esce dal convento senza essere vista. All'esterno, ad attenderla, c'è Abel. I due, travolti dalla gioia del successo, si abbandonano a un bacio appassionato. Manuel, che li osserva da lontano, resta esterefatto e sofferente. Nel frattempo, Romulo, rimasto a casa, è assillato dalla preoccupazione per il pericoloso piano in corso. Maria, invece, con il suo solito ottimismo e allegria, cerca di infondere speranza e tranquillità, convinta che tutto andrà per il meglio. La tensione e la gioia si mescolano, creando un'atmosfera carica di emozioni contrastanti all'interno della promessa. Martedì 18 giugno. Abel, Manuel e Gianna, con un piano ben orchestrato, riescono a far uscire il bambino dal convento di Villalquino e a riportarlo alla madre, Donna Pia. La gioia di Pia è indescrivibile. Finalmente ha suo figlio tra le braccia e vede la sua salute migliorare giorno dopo giorno. La felicità la riempie di energia e speranza, tanto che chiede al dottor Bueno di darle il suo benestare per tornare al lavoro, desiderosa di riprendere in mano la sua vita. Nel frattempo, Antonio De Carvalizzi in Cifuentes nutre dubbi sul passato di Martina. La sua curiosità lo spinge a interrogare Manuel e Curro riguardo ai pretendenti che la ragazza potrebbe aver avuto. Martina, venuta a conoscenza di queste domande invadenti, affronta Antonio con determinazione, infastidita dalla sua intrusione nella sua vita privata. Le scintille tra loro sono evidenti, segno di tensioni che potrebbero scoppiare in qualcosa di più. Feliciano, nel frattempo, informa la sorella che sono riusciti a recuperare il figlio di Pia. Petra, preoccupata che la Marchesa venga a sapere della situazione da qualcun altro, è colta di sorpresa quando Don Romulo le comunica che la Marchesa deve parlare con urgenza. Il timore di Petra è palpabile, mentre si prepara ad affrontare una situazione che potrebbe complicarsi. La Duchessa de Los Infantes, dopo aver definito tutti i dettagli sul futuro della gravidanza di sua figlia, lascia la promessa. La sua partenza segna la fine di un capitolo e l'inizio di nuove sfide per la famiglia. Con la sua determinazione e autorità, ha stabilito un piano preciso per il futuro, ma le incognite rimangono molte. La scena è complessa e carica di tensioni. Donna Pia si riappropria della sua vita e della sua salute, mentre Antonio mette in discussione il passato di Martina. La Marchesa è pronta a intervenire con urgenza, e la Duchessa ha tracciato un percorso per sua figlia, lasciando la promessa con molti pensieri in sospeso. La trama si infittisce, lasciando intravedere sviluppi intriganti e potenzialmente esplosivi. Mercoledì 19 giugno. Cruz, furiosa, si scaglia contro Petra per non averla informata immediatamente della liberazione del figlio di Pia. Determinata a prendere provvedimenti drastici, Cruz minaccia di cacciare Giana e Abel dalla tenuta. Petra, però, riesce a calmarla, convincendola a non compiere un gesto così estremo e assicurandole che la situazione è ormai sotto controllo. Nel frattempo, Maria è tormentata da dubbi riguardo a Salvador. La sua incertezza è evidente, e Lope, percependo la sua ansia, le consiglia di pazientare e vedere come evolvono le cose. Il suo consiglio pacato sembra alleviare un po' la tensione di Maria, anche se le sue preoccupazioni rimangono. Don Carlos, in un gesto di avvicinamento, propone a Candela di darsi del tu. Questo piccolo cambiamento di formalità crea un'intimità nuova tra i due, culminando in un bacio appassionato. Pia, che assiste alla scena da lontano, non può fare a meno di sorridere, felice per la nuova relazione che vede sbocciare sotto i suoi occhi. Più tardi, Petra confida a Feliciano di essere nervosa per essere stata rimproverata da Cruz. Feliciano cerca di rassicurarla, ma è evidente che il rimprovero ha lasciato il segno su di lei. Nel frattempo, Curro rivela a Gianna il suo disinteresse per il Gordon Cordy, esprimendo il desiderio di evitare quell'evento sociale. Antonio, con un tono di comando, ordina a Simona di preparare un pranzo speciale a base di fagiano. Durante il pranzo, con un gesto teatrale, annuncia il suo fidanzamento con Martina. La reazione di Martina è evidente a tutti. La sua tristezza non passa inosservata a Cruz, che le suggerisce di non sposare Antonio. Tuttavia, Martina si sente ormai troppo esausta per opporsi ulteriormente, accettando il suo destino con rassegnazione. Salvador, in un momento di coraggio, comunica a Lope e Maria la sua decisione di operarsi. La notizia suscita reazioni contrastanti, con Maria che mostra preoccupazione e Lope che cerca di infondergli coraggio. Manuel, infine, decide di andare a trovare il figlio di Pia. Durante la visita, rimane solo con Gianna, creando un momento di intimità tra i due. La tensione e le emozioni non dette tra Manuel e Gianna si fanno palpabili, lasciando intravedere la possibilità di sviluppi futuri nel loro rapporto. La scena complessiva è intrisa di emozioni contrastanti, dalle tensioni e i rimproveri alle dichiarazioni d'amore e decisioni coraggiose. La tenuta è un microcosmo di sentimenti intensi, dove ogni personaggio combatte le proprie battaglie interiori e cerca di trovare il proprio posto in un mondo in continua evoluzione. Giovedì 20 giugno. Manuel, con il cuore in subbuglio, confessa a Gianna la sua gelosia nei confronti di Abel. Le sue parole sono cariche di emozione, rivelando la profondità dei suoi sentimenti. Gianna, sorpresa e lusingata, ascolta attentamente, cercando di capire come gestire la situazione senza ferire nessuno. Nel frattempo, Romulo e Pia sono impegnati nei preparativi per il viaggio a Madrid, stanno organizzando l'itinerario e coordinando il personale che accompagnerà i signori, assicurandosi che ogni dettaglio sia perfetto per il loro soggiorno nella capitale. La loro dedizione e meticolosità sono evidenti, dimostrando quanto tengano al benessere e alla sicurezza della famiglia. Don Carlos, in un momento di confidenza, espone a Simona i suoi timori riguardo a una possibile relazione con Candela. Simona ascolta con attenzione, cercando di rassicurarlo e di offrire consigli saggi su come affrontare i suoi sentimenti e le incertezze che ne derivano. Curro, determinato a scoprire la verità, decide di visitare Ramona nonostante gli avvertimenti di Gianna. La sua insistenza è palpabile, spinta dalla necessità di chiarire questioni irrisolte e di mettere fine ai dubbi che lo tormentano. La visita a Ramona potrebbe rivelare informazioni cruciali o portare a conseguenze inaspettate. Nel frattempo, Abel e Gianna si avvicinano, confessandosi i propri sentimenti in maniera più o meno esplicita. Gianna, tuttavia, chiarisce di non voler etichettare ciò che prova, preferendo lasciare le emozioni libere di evolversi naturalmente. Questo approccio lascia Abel incerto, ma rispettivamente, della sua volontà. Teresa e Feliciano, dopo il malinteso legato al loro bacio, si confrontano apertamente. Teresa spiega come abbia percepito il bacio come poco coinvolgente, mentre Feliciano chiarisce i suoi veri sentimenti, cercando di ristabilire la fiducia tra di loro e di superare l'equivoco. Il duca Antonio invia alla promessa il figurino del vestito che Martina indosserà alla festa. Margherita, vedendo l'opportunità, usa questo gesto come pretesto per rivaleggiare con Cruz, cercando di affermare la propria posizione e di guadagnare influenza. Salvador, accompagnato da Maria, incontra Abel. Con umiltà e sincerità, Salvador si scusa per il suo comportamento scortese e informa Abel della sua decisione di operarsi. La conversazione è intensa e segna un passo importante verso la riconciliazione e il perdono. Infine, Curro tenta di dissuadere Martina dal voler sposare il duca Antonio. Le sue parole sono cariche di preoccupazione e affetto, cercando di farle vedere le possibili conseguenze di una scelta che potrebbe non renderla felice. Martina ascolta, combattuta tra la pressione delle circostanze e il desiderio di trovare la propria strada. La trama si infittisce, intrecciando storie di amore, gelosia, ambizione e riconciliazione. Ogni personaggio è alle prese con le proprie battaglie interiori, cercando di navigare in un mondo complesso e in continua evoluzione. Venerdì 21 giugno, Pia si trova in un costante stato di tensione, cercando di bilanciare le sue responsabilità lavorative con le esigenze del figlio. La sua ansia cresce di giorno in giorno, tanto che finisce per affidare il bambino alle cure di una domestica per lunghe ore, nel tentativo di adempiere ai suoi doveri. Romulo, osservando la situazione, non può fare a meno di intervenire. Con tono severo, le fa notare quanto sia inopportuno delegare ad altri la cura di suo figlio per così tanto tempo. Ma la vera ragione dietro le azioni di Pia è il terrore costante che qualcuno possa rapire nuovamente il suo bambino. Questo timore la paralizza, e in un atto di disperazione, chiede a Teresa di parlare con la sua amica nella speranza di ottenere maggiori informazioni su chi possa essere il rapitore. Ignora completamente il segreto che Teresa nasconde, convinta che una risposta possa alleviare le sue paure. Nel frattempo, Jimena riceve un pacchetto misterioso inviato da sua madre. Al suo interno trova una piccola bottiglia contenente sangue, parte di un piano per simulare un aborto. La sua intenzione è di rinunciare alla partenza e mettere in scena l'aborto quando la famiglia non è presente. Quando confida a Manuel di non sentirsi in grado di partire, l'uomo, preoccupato, chiede ad Abel di visitarla. Abel, dopo averla esaminata, concorda che un viaggio così lungo non sia ideale per una donna incinta, sostenendo la decisione di Jimena di rimanere. Al palazzo, l'atmosfera è elettrica in vista della festa reale. La preparazione è frenetica, e ogni dettaglio deve essere perfetto. In mezzo a questo tumulto, Margarita e Cruz si scontrano verbalmente. Margarita, con un tono minaccioso, avverte Cruz che potrebbe screditarla davanti alla nobiltà, forse proprio alla festa del re. La tensione tra le due donne è palpabile, e la minaccia di Margarita getta un'ombra oscura sulla già complessa situazione. Nel caos della preparazione e delle tensioni personali, ogni personaggio è spinto al limite, cercando di mantenere il controllo in un ambiente dove le emozioni sono al culmine. Pia lotta contro la sua paura, Jimena trama il suo inganno, e la rivalità tra Margarita e Cruz minaccia di esplodere in un confronto pubblico. L'equilibrio precario del palazzo è sull'orlo del collasso, con ogni evento che aggiunge una nuova tessera al mosaico di intridi e conflitti.